Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV che si apre con una sentenza che indubbiamente scrive una pagina importante sul tema dei femminicidi, ovvero la condanna all'ergastolo di Jawad Isham, l'uomo che nell'aprile scorso uccise a coltellate la moglie e la suocera. Per noi c'era Chiara Sadotti. In tutta l'aggravante contestata, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena dell'ergastolo con l'isolamento di urno per la durata di anni 1. Cosa significa? Giustizia fatta. Pena massima per Jawad Isham, la corte di assise di Arezzo ha condannato all'ergastolo il 38enne che lo scorso aprile è uccisa all'interno di un appartamento di via Benedetto Varchi, la compagna e la suocera. Oggi è una bella giornata. Il PM Marco Dioni aveva chiesto l'ergastolo con l'aggravante del vincolo parentale, stessa richiesta delle parti civili. Noi siamo usciti da questa aula soddisfatti perché comunque in questo caso la giustizia corrisponde alla legge. La difesa del 38enne invece aveva chiesto l'esclusione dell'aggravante, la concessione delle attenuanti generiche e lo sconto di un terzo della pena. Credo che fosse una sentenza ampiamente annunciata di cui non c'era veramente da sorprenderci, però diciamo le argomentazioni giuridiche in punto di sussistenza dell'aggravante sono quelle che sono la questione di rimente di questo processo e che verranno coltivate fino in Cassazione. La corte d'assise aveva già rigettato la richiesta della difesa di sottoporre l'uomo ad una perizia psichiatrica alla quale si erano poste anche pubblica accuse e parte civile. Il duplice femminicidio si consumò nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2023. L'uomo non accettava la fine della relazione con la donna. Dopo un ultimo scambio di messaggi col cellulare tra i due, in un crescendo di accuse ed offese, Javad prese l'arma e affondò 23 coltellate sul corpo della compagna Sararuschi, due delle quali fatali, mentre tre furono inferte alla suocera Brunetta Ridolfi. Tutto sotto gli occhi dei figli della coppia di 17 e due anni. Quindi per me è finalmente un grande sollievo, per me, mia sorella e per tutta la mia famiglia. Riconosciuta adesso dalla sentenza una provvisionale di 200 mila euro e 250 mila euro, rispettivamente per il ragazzo e per la bambina. Ancora un furto di pacchi Amazon lungo l'autostrada del sole in due sono finiti in manette. Regali di Natale o comunque acquisti online che non sarebbero mai arrivati a destinazione se non fosse stato per la polizia stradale che nelle scorse ore ha colto sul fatto due stranieri mentre stavano rubando numerosi pacchi Amazon con la complicità del corriere. Tutto è successo intorno alle 9 del mattino. La pattuglia della sottosezione di Battifolle si trovava lungo l'autostrada del sole all'interno dell'area di sosta Crocina poco prima del casello di Arezzo in direzione sud. Gli agenti si sono subito recati verso la zona più appartata dell'area di sosta dove avevano individuato un autotreno e un'auto con due persone indaffarate a traslocare le scatole da un mezzo all'altro. Alla vista dei poliziotti due sono scappati in direzioni diverse ma sono stati bloccati e arrestati. Il malloppo, principalmente apparecchiature e i tech, ha un valore di circa 4.000 euro. Appena due giorni prima, sempre gli agenti della sottosezione di Battifolle avevano denunciato altri due stranieri per ricettazione trovati in possesso di merce sempre proveniente da Amazon, rubata con le stesse modalità per un valore complessivo di 30.000 euro. Freddo, grandine e vento nel territorio aretino. Le temperature sono scese in picchiata e ad Arezzo è caduto un albero. è stata anche sfiorata una tragedia. Vediamo. Temperature impicchiata nell'aretino, una grandinata ha interessato il territorio nella tarda mattinata, le foto e i video che ci arrivano dalla chat di Arezzo Meteo immortalano il fenomeno in tutti gli angoli della provincia aretina. Nessun danno per la grandine ma il forte vento in città ha fatto cadere sulla sede stradale un grosso albero in Viale Santa Margherita a pochi passi da Porta San Clemente. L'albero è caduto sopra un'auto con all'interno una persona che per fortuna è uscita in denne. Le temperature sono scese in picchiata dai 22 gradi del primo dicembre ai 14 di oggi e nelle prossime ore scenderanno ancora al di sotto dei 10 gradi per la massima. Per la giornata di domenica 3 dicembre, infatti, secondo Arezzo Meteo, il meteo dovrebbe essere decisamente più clemente con qualche annuvolamento sulle aree orientali e sulle zone che guardano la Romagna. Qualche nevicata sarà possibile nella notte oltre i mille metri. Temperature in netto calo anche per la giornata di lunedì. Ancora una giornata piuttosto fredda con valori massimi sotto i 10 gradi. Un daino è finito in un laghetto ed è stato salvato dai vigili del fuoco del comando di Arezzo. È successo a Meliciano dove appunto un piccolo daino di circa 50 kg era finito in acqua all'interno di un laghetto artificiale e non riusciva più ad uscire. La squadra dei vigili del fuoco di Arezzo ha quindi provveduto a recuperarlo per poi rimetterlo indenne in libertà. Il sindacato della Polizia Municipale di Arezzo risponde alle polemiche sull'uso sperimentale del teaser approvato nell'ultimo Consiglio Comunale. Non siamo dei Rambo, vogliamo solo lavorare in sicurezza. A sostenerlo è il segretario provinciale del SULP Arezzo, Davide Frondaroli, che all'indomani dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Arezzo alla sperimentazione del teaser tra le dotazioni in possesso della Polizia Municipale risponde ad alcune considerazioni espresse da componenti dell'assise. Non accettiamo di essere definiti dei Rambo, spiega Frondaroli in riferimento alle affermazioni del consigliere 5 Stelle Michele Menchetti, specialmente da chi usa questo strumento come pregiudizio ideologico senza conoscerne il funzionamento. La Polizia Locale italiana è quotidianamente sulla strada ad affrontare tutte le situazioni di degrado e pericolo che forse è la stessa politica che ha contribuito a creare mettendo a rischio la vita degli agenti. Sono sempre più numerosi gli infortuni e le aggressioni che quotidianamente si registrano. Ricordiamo inoltre che abbiamo già un'arma da fuoco e che il teaser, classificato anch'esso come arma ma non da sparo, sarà utilizzato con la stessa attenzione e senso di responsabilità. Un largo dedicato alle vittime civili di guerra, la nuova toponomastica riguarda il tratto della rotonda tra via Arno e via Duccio da Buoninsegna, posto alle spalle del monumento dedicato alle vittime civili di guerra, andando così a rendere un omaggio perenne alla memoria dei 1.800 uomini e donne caduti durante la Seconda Guerra Mondiale nel territorio aretino. L'intitolazione è stata voluta dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e ha trovato la sua concretezza in seguito ad un atto di indirizzo presentato nel gennaio 2022 dal consigliere del Partito Democratico Alessandro Caneschi e ha approvato poi all'unanimità dal Consiglio Comunale. Siamo a parlare di sanità, iniziamo con questa notizia. Il prossimo 16 di dicembre è un open day per poter testare l'eventuale positività all'epatite C. Il prossimo 16 dicembre ASL e l'Associazione di Volontariato offriranno gratuitamente lo screening per l'epatite C, un'infezione del fegato causata da un virus trasmesso mediante contatto con sangue infetto. Lo screening consiste in un test rapido, un pungidito su sangue capillare per la ricerca di anticorpi anti-HCV. Il risultato è disponibile in pochi minuti. I test rapidi saranno effettuati nelle sedi ASL e nelle principali piazze toscane. Un open day rivolto ai cittadini tra i 34 e i 54 anni. 900.000 le persone in tutto. Questo è il target di popolazione individuato dal Ministero della Salute. Al momento sono stati più di 20.000 i toscani che si sono fatti avanti e hanno risposto alla chiamata attiva. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della Regione Toscana all'indirizzo www.regione.toscana.it slash testiamoci. E Covid e influenza stanno letteralmente mettendo a letto in questi giorni decine di aretini. Così dalla ASL arriva l'invito alla vaccinazione sia contro il Covid che contro l'influenza stagionale. Il vaccino è raccomandato e offerto gratuitamente, parliamo di quello anti-influenzale, alle persone con almeno 60 anni di età e ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Oltre a questi il Ministero raccomanda la vaccinazione indipendentemente dall'età a tutte le persone fragili con patologie, agli operatori sanitari, alle donne in gravidanza, a chi lavora nei servizi di primario interesse collettivo. La campagna di vaccinazione contro il Covid è invece iniziata con la somministrazione alle persone più fragili e agli anziani. Ci si può rivolgere ovviamente presso il proprio medico di famiglia o presso i pediatri di libera scelta o ancora presso le farmacie aderenti all'accordo regionale o presso gli ambulatori vaccinali proprio ovviamente della ASL. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di Natale, lo abbiamo già visto nella prima parte del nostro telegiornale, oggi una grandinata che ha rovinato in un certo qual modo anche questa prima giornata di weekend appunto di Città del Natale e in concomitanza anche di Fiera Antiquaria. Come sono stati questi primi due weekend di affluenza? Diciamo che siamo contenti della gente, dei turisti che vengono a visitare la nostra città e speriamo sempre meglio ora che si arriva diciamo nel periodo natalizio. Bilancio tutto sommato positivo per i mercatini natalizi di Piazza Saiacopo e Piazza Risorgimento ad Arezzo i primi che dal punto di vista geografico si incontrano salendo da Corso Italia. Questa è la parte bassa dei mercatini che parlano più a retino mi verrebbe da dire però vedo che i vostri prodotti sono apprezzati. Sì, proviamo anche noi a invogliare la gente a venire a visitare anche Piazza Saiacopo, Piazza Risorgimento perché ci siamo anche noi e abbiamo tante cose da proporre alla gente. Non tanto bene come gli altri anni, devo dire la verità, perché vediamo sempre la differenza della piazza. Piazza Risorgimento è un po' più rispetto all'altra piazza che c'è più passaggio, la gente venendo giù dal Corso anche i turisti la notano subito, trovi quella, ma non è continuativa. Noi vediamo molto molto meno gente. Quindi magari per l'anno prossimo un qualcosa che vi possa unire un po' di più? Sì, lo speriamo già da diversi anni. Noi siamo stati contenti l'anno scorso che un weekend abbiamo visto tanta gente entrare da via Guido Monaco. Sono entrati, non so se magari fermavano il Pullman, però ecco un weekend abbiamo lavorato benissimo perché sapevano che c'eravamo anche noi. Quindi questa è un po' la strada per includere tutti insomma secondo lei? Sì, noi saremo molto contenti. Un weekend della città del Natale che in questo fine settimana convive anche con l'edizione della Fiera Antiquaria e immancabilmente anche con il maltempo che nella giornata perlomeno del 3 di dicembre dovrebbe allentare la morsa. Il boom delle presenze sarà nel Ponte dell'Immacolata. Avevamo messo in conto anche la possibilità di un Natale un pochino più sottotono rispetto agli anni precedenti. Ricorderete tutti che agosto non è stato un mese particolarmente florido per il turismo in Italia, per le vacanze e quindi avevamo anche qualche timore sul fatto che l'agosto potesse ripresentarsi vestito dopo a Buon Natale. Ad ora non è così, le previsioni per i prossimi weekend, quindi per questo che viene e per il Ponte dell'Immacolata sono ottime, anche lì siamo ai livelli dell'anno precedente, quindi al sold out e diciamo che la fiducia è tanta. E nonostante il maltempo, sperando poi in un miglioramento come dicevamo per la giornata di domenica 3 dicembre, la Casa Museo Ivan Bruschi è pronta ad accogliere i visitatori in occasione proprio della Fiera Antiquaria. Domenica 3 dicembre, ingresso gratuito per rendere più interessante e piacevole questa visita a tutti i bambini, saranno disponibili gratuitamente le speciali carte didattiche, un mazzo di carte con cui viaggiare tra le opere esposte attraverso indovinelli appunto a cui rispondere. E domani 3 dicembre al via la 25esima edizione della mostra concorso presepi di Laterina, una iniziativa che appunto è in essere addirittura dal 1997, l'antico centro storico della Terina si trasforma così in un luogo magico ospitando una straordinaria rassegna appunto di presepi che offre uno spettacolo davvero affascinante ai visitatori. La cerimonia di premiazione ci sarà poi il 10 dicembre ma nel mezzo tante iniziative, una su tutte l'8 dicembre, la mototerapia, una giornata dedicata ai ragazzi diversamente abili che potranno vivere l'emozione di salire su una moto e poi il 9 dicembre invece appuntamento con la scorrida ai 10, come dicevamo la premiazione appunto dei presepi vincitori. Oltre 900 i commensali presenti presso la polisportiva Montecchio Vesponi per la cena di beneficenza nel comune di Castiglion Fiorentino in favore del centro di ascolto della Caritas. Una serata da record ha detto il sindaco Mario Agnelli con il più alto numero di partecipanti dall'introduzione del 2014 di questo appuntamento appunto benefico al ridosso del Natale diventata ormai una vera e propria tradizione per l'intera comunità castiglionese. Ed infine siamo allo sport domani ad Arezzo presso il Pala Estra l'AMNBC Servizi dovrà affrontare la Cantini Lorano Firenze. Domenica 3 dicembre alle 18 il Pala Sporta Estra ospiterà l'ultima giornata di andata del campionato di serie B. L'AMNBC Servizi Arezzo sfiderà la Cantini Lorano Firenze per quello che è diventato un classico delle ultime stagioni. La legnaia si presenterà ad Arezzo in forte ripresa reduce da due successi consecutivi che l'hanno riportata a ridosso delle prime in classifica. Guidata in panchina da coach Zanardo Firenze vanta il terzo miglior attacco. Il controllo del ritmo di gara sarà sicuramente il lago della bilancia di questa sfida visto che la legnaia predilige come prima soluzione il gioco in velocità. L'AMNBC Servizi è chiamata ad una prestazione di alto livello per provare a chiudere il girone di andata con il sorriso ripartendo dalle situazioni positive viste nella trasferta di sabato scorso a Empoli. L'appuntamento per tutti i sostenitori Amaranta è dunque fissato per le 18 di domenica al Palace Portestra per la sfida tra MNBC Servizi Arezzo e Cantini Lorano Firenze che nelle ultime stagioni ha regalato spesso partite molto emozionanti e combattute. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'ascolto e arrivederci. Grazie per l'ascolto e cantare.